Incontrammo Benny nel negozio di Vicam Station, dove stavamo comprando pane e frutta per il nostro pranzo. Ci disse che se ci fossimo sbrigati saremmo riusciti ad arrivare a Potam in tempo per assistere alle danze pascola, che facevano parte delle celebrazioni in onore della Santissima Trinità, patrona della Chiesa. Lungo la via, chiesi a Benny di parlarmi dei festeggiamenti. Mi spiegò che comprendevano balli, canti, l'esecuzione di strumenti musicali, processioni colorate e uno spettacolo pirotecnico dopo il tramonto. E naturalmente un sacco di cibo e cose da bere, aggiunse con un gran sorriso. Sotto la guida esperta di Benny, riuscimo ad arrivare a Potam in un tempo record. Le vie erano così gremite che avevamo avuto difficoltà a manovrare l'auto tra la moltitudine di spettatori. Iacqui e messicani provenienti da tutta Sonora si erano radunati per i festeggiamenti che si svolgevano nella piazza di fronte alla Chiesa. Erano state allestite due ramade, sui lati est e ovest della piazza, presidiate da due gruppi di quattro direttori del festival, o Fiesteros. I quattro che indossano copricapi rossi e portano le bandiere rosse gestiscono la ramada occidentale. Quelli della ramada orientale hanno un copricapo blu e portano bandiere blu. Allungai il collo per osservare i diversi direttori che si aggiravano tra le ramade. Perché indossano costumi di colore diverso? I blu sono i cristiani, quelli rossi sono i mori. Non sapevo che ci fossero mori a Sonora, dissi sorpresa. Carlos mi diede di gomito. Non sono davvero mori, disse spazientito. Stanno solo recitando la parte dei mori. Vedi, la fiesta è una drammatizzazione del conflitto del quindicesimo secolo tra i cristiani e i mori in Spagna. Come tale scontro europeo si fosse intessuto nelle cerimonie di un piccolo villaggio Iacqui era al di là delle mie conoscenze storiche. Notai che i Fiesteros rossi o moros indossavano un piccolo cappello a forma di cono fatto di legno, alto circa 4 pollici. In cima ad esso era inserita una mezzaluna di metallo, da cui pendeva un drappo rosso che copriva la testa e gran parte del viso del moro. Dobbiamo tenere d'occhio quelli blu, disse Carlos, indicando la direzione opposta. I cristiani sono sul lato est. Perché dobbiamo osservare i cristiani? Domandai, incuriosita da quello che i mori stavano facendo. Perché è nella ramada orientale che si svolgeranno le danze pascola e del cervo? Mi alzai sulle punte dei piedi per vedere gli uomini vestiti di blu. Notai che portavano nastri blu legati intorno alla testa, la stoffa copriva completamente i capelli e la parte superiore delle spalle. Loro portavano bastoni di legno, ma al posto della mezzaluna avevano una croce di metallo sulla punta. Non riuscivo a vedere bene, così ci spostammo approfittando di un'apertura tra la folla, per raggiungere a un posto vicino ai gradini della chiesa. Dali avevamo una visuale a volo d'uccello sull'estremità orientale o cristiana della piazza, dove si sarebbero svolte le danze. I musicisti avevano già iniziato a scaldare i loro violini, arpe, flauti di canna e tamburi. Poi uscirono i danzatori, vestiti con abiti simili a grembiuli, con gile a frange, pantaloni aderenti e maschere. Qual è il significato delle danze pascola e delle maschere? Domandai, stando in piedi su un muretto per avere una visuale migliore. C'è un significato religioso nelle danze? Sì, c'è. Gli Iacui credono che il battesimo esistesse già prima dell'arrivo degli spagnoli. Coloro che non volevano essere battezzati diventavano vittime di un incantesimo. Avevano il potere di trascendere la morte ed esistevano su un piano invisibile sovrapposto al territorio tribale degli Iacui. Gli Iacui credono che esista un altro mondo che è sempre qui, onnipresente, proprio come il mondo che ci circonda. Le persone invisibili sono fantasmi o spettri? Non sono morti. Gli Iacui li chiamano il popolo del monte. Credono che i non battezzati o gli invisibili siano la fonte delle danze e della musica suonata per il pascola. Ci sono storie di grotte sulle colline dove degli uomini hanno incontrato il popolo invisibile e hanno imparato a suonare la musica per le danze pascola direttamente da loro. Interloqui Benny. E per quanto riguarda le danze, lo interrogai. Chi ha insegnato loro i movimenti? Il popolo del monte. Anche loro vengono istruiti con l'aiuto della gente invisibile. Talvolta è possibile ascoltare la musica pascola nella boscaglia, dove non c'è nessuno, e gli Iacui sanno che è la gente del monte a suonare. Personalmente, penso che sia il vento, ma in fondo, non sono uno Iacui. Guardai la parte est, dove erano iniziate le danze. I ballerini eseguivano i movimenti fra i più bizzarri, come se non avessero alcun controllo sulla muscolatura delle braccia e delle gambe, e i suoni che uscivano dalle loro bocche erano ringhi animaleschi e grida niente affatto simili a qualsiasi suono umano che avessi mai ascoltato. Hanno un aspetto insolito, sussurrai a Carlos. E suonano in modo ancora più insolito. Questo perché danno la deliberata impressione di provenire dal mondo dello spirito. Il motivo per cui indossano le maschere ed emettono quei suoni inintelligibili è dovuto al fatto che non hanno ancora imparato a parlare la lingua degli uomini, né a muovere le braccia e le gambe come è proprio degli esseri umani. I danzatori devono essere introdotti gradualmente nel mondo degli uomini. Man mano che ci avvicinavamo alla ramada orientale, Benny spiegava, e Carlos traduceva altri aspetti della tradizione yaku. Appresi che i danzatori erano ritenuti di possedere una connessione diretta con gli animali del monte, da loro considerati i propri guardiani e maestri. L'intera danza era una drammatizzazione del passaggio da un mondo, il reame invisibile dell'esistenza senza tempo, al mondo dei limiti temporali e spaziali abitato dall'uomo, e poi del ritorno nel senza tempo con l'aiuto degli animali rappresentati dalle maschere. Osservando i danzatori nei loro costumi, notai che ai polpacci e alle caviglie portavano delle fasce su cui erano cuciti centinaia di bozzoli che rantolavano ogni volta che facevano un passo. Ballavano in cerchio, muovendo le braccia e le gambe ritmicamente sulle note dei musicisti. A un certo punto sembrarono perdere la loro stranezza e si mossero senza problemi in sincronia con la musica. Poi avanzarono al centro della piazza, quindi si girarono separandosi per rivolgersi verso le quattro direzioni, battendo costantemente i piedi in modo che i sonagli di bozzoli emettessero suoni secchi e raspanti. Questi si mescolavano alla musica dei violini, dei tamburi e dei flauti, in modo che insieme producessero una miscela ipnotica di riverbero mesmerico. Dopo un po', un altro ballerino venne fuori per unire il gruppo dei ballerini Pascola. Benny disse che era il danzatore cervo, il che veniva denotato dal fatto che indossava una testa di cervo come parte del suo costume. Egli simboleggiava il cervo magico abitante del monte, il reame che esisteva prima che il tempo avesse inizio. Ad accompagnare il danzatore cervo c'era un gruppo di cantanti che intonavano speciali canzoni. Le canzoni del cervo sono molto poetiche. Di cosa parlano? Sono canti di cose avvenute molto tempo fa, ma non è necessario credere che siano realmente accadute, o che siano vere, per apprezzarne la bellezza. Gli yaki provano orgoglio nel raccontare queste storie. Guardai il danzatore cervo mentre muoveva il suo corpo provocante. Sembrava avere una grande resistenza. La sua testa era chinata come in trance, la piega era indotta dallo scuotere ritmico dei sonagli di zucca gigante che teneva in ogni mano. Non sembrava più consapevole del mondo intorno a lui, come se i suoi stessi movimenti ripetitivi lo avessero trasportato in un altro reame. Notai che quei suoni monotoni stavano avendo un effetto deleterio anche su di me. Mi sembrava di essere entrata in un lieve torpore provocato dal suono ripetitivo degli strumenti e dal battito ritmico dei piedi del danzatore, che faceva tintinnare l'ammasso di bozzoli alle sue caviglie. A un certo punto sembrò che stessi vedendo il mondo del danzatore sovrapposto alla realtà che avevo di fronte. Più concentravo la mia attenzione sul danzatore che indossava la maschera da cervo, più la mia testa cominciava a ondeggiare. Sentii una voce dentro di me che mi diceva di tenere gli occhi sul ballerino. I suoi movimenti sembravano particolarmente scorrevoli, come se fosse sospinto da una forza esterna, come se il suo corpo non fosse più fatto di carne e ossa. Era fluido, vuoto, si fondeva con il mondo del popolo invisibile e degli animali spirito. Magari, quello che gli acqui credevano era vero, e cioè che danzare e indossare maschere permettesse di trascendere la propria umanità, di scivolare al di fuori della morsa del tempo e momentaneamente percepire da una prospettiva differente. Come gli stregoni che mi avevano addestrata, un danzatore consumato poteva afferrare la conoscenza e vedere le cose oltre i limiti della sua forma umana. Magari, per un momento, attraverso l'unione con la danza e il suono del flauto, dei tamburi e del «rantolo» di un migliaio di bozzoli secchi, egli riusciva a diventare ciò che era prima del periodo in cui la mente analitica iniziasse a dominare l'uomo. Era un modo per ritrovare il proprio retaggio e per diventare ancora una volta un tatuno con il popolo invisibile del piano senza tempo. Mentre guardavo i danzatori che percuotevano il suolo con le gambe e si muovevano in semicerchio, mi resi conto di quanto il mondo degli indiani yaku fosse incomprensibile per un estraneo. A meno che una persona non diventasse un danzatore pascola, immerso nelle usanze yaku, non poteva apprezzare veramente gli eventi che stavano accadendo, e per essere un danzatore bisognava diventare un membro della cultura yaku, e anche allora ci sarebbero voluti anni di allenamento con un maestro per affinare l'arte. A meno che, non si imparasse direttamente da qualcuno del popolo invisibile o dagli animali del monte. Risultava evidente che le celebrazioni davano alle persone un forte senso di coesione comunitaria. Centinaia di persone si erano riunite con le loro famiglie e i loro parenti dalle città limitrofe, per assistere alle danze e per attendere che il cibo venisse servito e che si iniziasse a bere. Un antropologo avrebbe senza dubbio riferito che i festeggiamenti offrivano ai partecipanti e agli spettatori la possibilità di sfuggire alla mondana fatica della vita quotidiana. Attraverso l'espressività rituale, i festeggiamenti portavano la mente collettiva fuori dal reame profano e la elevavano al livello del sacro, facendo rivivere i miti sempre presenti del passato. Mentre i danzatori raccontavano storie con le loro maschere e i loro movimenti, le persone potevano rivivere gli eventi della storia yaku, dando così carne e sostanza ad avvenimenti che potevano, o meno, essere accaduti nel corso del tempo. Mentre nella mia mente scorreva la gamma di spiegazioni antropologiche delle festività, era evidente che per capire qualcosa non bastava vedere le cose da un punto di vista oggettivo, descrivendole in modo che altri ricercatori potessero ripetere ciò che si era sentito e visto. Per capire il fenomeno bisognava diventare un membro di quella società o di quel gruppo. Mi domandavo com'era stare dietro la maschera del danzatore, creare il festival. Non come un estraneo, ma in quanto membro del gruppo, e vedere il mondo come il danzatore cervo stesso lo vedeva. In altre parole, bisognava mordere una mela per assaporarne o sperimentarne l'essenza, non limitarsi a descriverne le proprietà dall'esterno. Quando le danze finirono, i ballerini si mescolarono alla folla per intrattenere i bambini, in quanto parte dei loro doveri. I genitori avevano essato i loro figli sulle spalle, in modo che potessero vedere le pagliacciate e il gironzolare allegro che aveva luogo. Notai il bambino di fronte a me, in groppa al padre. Per un istante ebbi la certezza che anch'io fossi salita sulla schiena di qualcuno, e non da bambina. Eppure, per quanto mi sforzassi, non riuscivo a ricordare quando fosse accaduto. Poi, mentre osservavo il bambino che stava a guardare sopra le spalle del padre, un ricordo totale mi investì, come se fosse stato mandato dalla fastidiosa brezza che continuava ad arruffarmi i capelli dietro la nuca. Vidi me stessa appesa all'imbracatura del gigantesco albero di fronte l'abitazione di Clara. Qualcuno stava fermo ai piedi dell'albero e afferrandomi per le gambe, mi faceva dondolare avanti e indietro. Non mi veniva la nausea o le vertigini. Al contrario, urlavo con gioia di essere spinta di nuovo, perché la sensazione di dondolare era per me pura delizia. Abbassai lo sguardo e vidi Carlos che mi spingeva. Mi domandò se volevo salire sulle sue spalle. Gli feci notare che ero troppo pesante, ma egli disse che l'imbracatura avrebbe sostenuto la maggior parte del peso. Abbassandomi sulle sue spalle, mi aggrappai alla sua testa. Egli agganciò le braccia intorno alle mie gambe. E via, procedemmo in piccoli cerchi. Ridevamo così forte che non mi accorsi nemmeno che l'imbracatura si era attorcigliata. Quando mi lasciò andare, iniziai a girare come una cima di una fune che fosse stata ritorta lungo la sua lunghezza. Scossi la testa per disperdere il ricordo. Non poteva essere successo, pensai, era qualcosa che stavo solo immaginando. Tuttavia, la visione e la sensazione di aver già conosciuto Carlos erano così intense e delineate che faticavo a disperderle. E afferrai il braccio, così da evitare di separarci mentre avanzavamo tra la folla per tornare in macchina. Benny voleva rimanere per le danze e i fuochi d'artificio, ma Carlos disse che doveva fare un'altra sosta, per raccogliere alcune maschere e magari una serie di sonagli per il museo. Lasciamo Benny in compagnia di alcuni suoi amici e tornammo a Vcam Station, ma prima di raggiungere la città, Carlos improvvisamente scartò l'autostrada principale imboccando una via sconosciuta, come se avesse ben chiaro dove stessimo andando. Dopo diverse miglia di percorso accidentato, parcheggiò l'auto su un'area di terreno ben compatto vicino a una casa di adobe quasi completamente nascosta dagli arbusti. Quando scendemmo, disse con non curanza che non eravamo lì per le maschere, ma che quella era l'abitazione di Don Juan e voleva vedere se fosse in casa. Carlos chiamò, annunciando la nostra presenza, ma nessuno venne alla porta. Aspettai in macchina mentre Carlos camminava lungo la strada per vedere se riusciva a incrociare Don Juan mentre tornava dal negozio. Carlos disse di avere la forte sensazione che lo avrebbe incontrato per strada, come aveva fatto nelle precedenti occasioni in cui era venuto a trovarlo.